Ciao ragazze, eccomi oggi con un nuovo video e sono qui per mostrarvi che cosa c'è all'interno del mio telefono che è un Samsung Galaxy S6 molto recente questo acquisto è praticamente nuovo e niente, l'ho preso azzurro sì, la cover è trasparente ma è impadellata non vedo l'ora di cambiarla perché sinceramente non mi piace e poi protegge male, soprattutto la fotocamera non è protata se cade il telefono si rompe quindi non ci tengo comunque vi faccio vedere che cosa c'è all'interno allora troviamo, vabbè, all'inizio abbiamo l'orario con la data e lo sfondo che ho messo è appunto di Chloe aspettate che tolgo la notifica di Sazam perché altrimenti non si vede bene ecco, ecco appunto lo sfondo con cloettina bella qui c'è per fare le foto senza sbloccare il telefono facciamo così e quant'altro poi, vabbè, qui per telefonare sblocco con la digitale una pronta digitale e niente allora, praticamente qui nella schermata principale e a lato ho messo tutte le applicazioni che utilizzo quotidianamente mentre nell'applicazione generale ci sono tutte quelle cose che ci sono nel telefono magari anche cose che non uso e purtroppo ci sono cose che proprio non le guardo nemmeno cioè, avevo scaricato Photogrid Wunderlist ma non le uso anche alcune applicazioni per editare ma non sono capace cioè, mi ci dovrei mettere lì ma non mi ci metto poi ho un giochino che è Razzle, vabbè comunque, torniamo alle applicazioni che utilizzo abbiamo calcolatrice che è utilissima l'orologio dove metto il timer se sto facendo da mangiare o qua c'ho una torta e poi qui ci sono le sveglie ovviamente per la mattina poi abbiamo il calendario galleria dove ci sono le foto ovviamente abbiamo Facebook immancabile Whatsapp che utilizzo tutti i giorni per comunicare poi abbiamo in questa cartellina che ho creato io social ho messo Google più per seguire vari video che sono stati pubblicati su YouTube e tutte le notifiche sempre del mio canale molto utile poi abbiamo sempre in questa cartella Instagram ma non lo uso mai cioè, sono iscritta però non pubblico sempre le cose video, foto insomma preferisco utilizzare Facebook poi ho Messenger di Facebook per comunicare Sazam per ascoltare le canzoni dalla radio e capire il titolo poi abbiamo InstaWeather per scattare per scattare le foto con la temperatura in quel determinato luogo e da poter pubblicare su Facebook e Skype ovviamente per fare le videochiamate poi abbiamo TripAdvisor perché mi piace seguire le recensioni di vari posti soprattutto anche dove lavoro seguo molto le recensioni e poi abbiamo YouTube ovviamente dove sapete c'è il mio canale e seguo tutte le ragazze insomma seguo molti canali poi abbiamo Smart Mobile che è l'applicazione per l'onbanking della mia banca un'altra cartella con musica dove ho messo il Play Store per acquistare il Play Musica per ascoltare la musica acquistata il lettore musicale invece per ascoltare o anche la musica che ti passi dentro il telefono senza per forza acquistarla comunque questo è quello acquistato posso fare il mix Fortunato che mi fa un mix di musica casuale poi cosa abbiamo abbiamo impostazioni ovviamente del telefono il telefono con rubrica tastierina e quant'altro per telefonare i messaggi la mail ovviamente per guardare le mie mail o la G Gmail poi c'è Chrome che appunto apre direttamente Google e poi abbiamo il tastierino questo per entrare in tutte le applicazioni generali del telefono che come vi ho detto ci sono un sacco di cose che non uso e poi di qua abbiamo altre applicazioni che utilizzo quotidianamente che sono la Torcia molto utile Farmacia di turno che è un'applicazione per vedere le farmacie aperte nella zona vicino a casa di sera o comunque quando sia necessità Postpay appunto per seguire il conto della mia Postpay e tutti i versamenti UcCinema è l'applicazione del mio cinema dove posso vedere le programmazioni posso vedere tante cose e addirittura acquistare da casa i biglietti o prenotarli poi abbiamo Art ovviamente sapete cosa per vedere l'universe se voglio vedere la terra dall'alto poi abbiamo 3b meteo il meteo appunto e l'archivio dove anche qui c'è tutto 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 delle cose salvate immagini video audio per poter seguire interamente il mio telefono e la memoria del dispositivo poi ci sarebbe mappe ma non l'ho messa non so per quale motivo ecco pensavo di averla messa e questa ecco appunto un'altra applicazione che utilizzo è Maps per mettere un posto ecco appunto per se devo andare da qualche parte non so la strada me lo metto e poi faccio il tragitto il percorso mi dà il tempo che ci vuole per arrivare e quant'altro molto utile e niente poi qui appunto c'è Excel abbiamo altre applicazioni Word alcune cosine ma che comunque non uso video editor appunto tutte cosine che ho scaricato da provare ho anche l'applicazione di Avon del catalogo ma non la uso mai perché vado sul sito e ho l'applicazione sfondi per scaricare gli sfondi e boh vabbè Dropbox Wunderlist cose che ho anche queste che non uso mai e niente questo è tutto e questo sfondo che ho messo è una foto che ho scattato io al lago della ninfa in Trentino e niente questo è il mio telefono spero che il video vi sia piaciuto vi mando un bacione grande e ci vediamo col prossimo video ciao